Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi dell'almanacco topolino numero 5. Eccolo qui, questa bella copertina ovviamente a tema natalizio, tema invernale di Emanuele Baccinelli con Mario Perrotta ai colori e quindi qui vediamo praticamente l'iconico logo dell'almanacco topolino in rosso con piccolo rilievo nero con sfondo giallo scritta nera Disney, una copertina e anche la costina rimane sempre gialla così come la quarta di copertina, ma ogni volta che esce l'almanacco topolino che comunque vi ricordo è un bimestrale di 130 pagine a 4,90€, cambia sempre il colore e qui abbiamo l'azzurro con la neve a fare da sfondo a Paperino e Zeo Paperone che sono in macchina e c'è un pupazzo di neve dietro di loro, molto carina la copertina, ovviamente dicevo 130 pagine ovviamente a colori, 4,90€ per questo bimestrale, per questo manacco topolino che è arrivato al numero 5, io come ben sapete lo seguo fino al numero 1, li ho tutti e 5, quelli usciti finora ed è sempre una lettura molto carina, poi specialmente quando ci sono le feste, quindi ora che siamo a dicembre, quindi ovviamente l'argomento è il Natale, questo è uscito ufficialmente martedì 14 dicembre, nel momento in cui sto registrato il video, siamo a venerdì 17, quindi ho appena finito di leggerlo, quindi vi volevo parlare un po' delle storie che abbiamo all'interno, così si apre l'almanacco topolino con il frontespizio del disegno di Emanuele Bacinelli, non colorato qui da perrotta e poi c'è ovviamente ci sono varie editoriali tra cui quelli di Luca Boschi, la prima è Una torta per tutti in cui si parla della storia che apre questo quinto almanacco topolino, una storia molto molto bella che si chiama Capodanno e la torta papera, col testo di Gian Giacomo Dalmasso, i disegni di Luciano Bottaro, Giuseppe Perego e Guido Scala, quindi disegni misti, dalla marco topolino numero 73 del gennaio 1963, perché qui è scritto 73 ma in realtà la storia del 63, visto che qui abbiamo la copertina originaria del 1963 del gennaio 63 ed è questa, insomma la storia è molto bella perché ci sono praticamente Topolino e i suoi nipotini tip e tap che parlano dell'invito che hanno avuto da nonna papera di andare appunto al pap river per passare il capodanno insieme ai paperi, quindi sono stati invitati Topolino, tip e tap, Pippo, Orazio, Clarabella e ovviamente anche Pluto per andare a cenare insieme a nonna papera i vari paperi, di lì a poco si scoprirà che la torta di nonna papera è molto ambita, molto buona, addirittura i bassotti vorranno rubarla, prenderanno come dire in ostaggio praticamente Archimede, Zio Paperone, Piccole Paperi, Sgastone, Paperino, quindi tutti i paperi qui, di lì a poco Topolino si incaricherà del fatto di sbrogliare questo mistero e insieme agli altri, come anche a qui qua o qua, cercheranno di mettere in difficoltà i bassotti e di riunirsi tutti per cenare questo capodanno e soprattutto per l'ambita torta di nonna papera, non vi dico come va a finire ma è una storia molto bella anche di disegni, si vede che è una storia degli anni 60, molto bella questa storia iniziale. Dopo la storia iniziale c'è il diario di Paperone e l'album di Della, ci dice cosa leggeremo perché si parlerà della sorella di Paperino, Della Duck, che in origine è la madre di qui qua o qua che ha affidato a lui i bambini, c'è i paperini proprio in tenere età, c'è una piccola storia di una pagina che si chiama Paperino e Della, la prima gara di Slittino, con Paperino e Gastone piccoli insieme a Della che sono tutti piccoli, d'età, sono bambini. La storia è stata pubblicata per la prima volta sul settimanale olandese Donald Duck numero 3 del 12 gennaio 2007, il testo di Evert Gerrard e le matite di Carmen Perez, kine dello studio Comic Up. Non vi dico nulla perché è soltanto una pagina, ma molto interessante, qui viene spiegato un po' l'evoluzione del personaggio di Della e quindi della sorella di Paperino e ovviamente madre, come detto di qui qua o qua, un personaggio di cui non si è parlato tanto e nei fumetti non appare molto ma appare più sulla serie animata di DuckTales. Ci sono ovviamente anche altri due capitoli dei diari di Paperone che già avevamo visto sugli altri numeri della Manacco Topolino. Il capitolo 2, le scogliere nere. Il capitolo 3, la scomparsa dei fratelli Pitagorico, molto carine queste storie. Però io ho preferito a pagina 47 la storia dedicata a Paperina alle prese con il vischio. Vi faccio vedere qualche tavola di Zeo Paperone del capitolo insomma di Paperone Giovane. A pagina 47, come detto, abbiamo Paperina invischiata nel vischio. Un'altra storia molto carina, una storia che a Natale appunto Paperina si è presa a fare i regali, trova questo vischio e vorrebbe insomma, dice che si parla del vischio, in cui a Natale ci si bacia tra fidanzati sotto il vischio. Paperino però non è molto romantico, insomma ne succederanno in tutti i colori quando andranno a cena. Poi ci sarà una sorpresa finale che sinceramente mi è piaciuta molto ed è carina e simpatica. Poi c'è una storia in due parti che è Paperino e Topolino in Una macchia sull'amicizia, pubblicata la prima volta sul settimanale tedesco Mickey Mouse, scritto proprio Mouse, numero 1 del 27 gennaio 2005. Bella questa storia perché praticamente Paperino e Topolino stanno giocando a basket e poi si sfidano e ricordano, c'è praticamente una storia d'avventura, andranno addirittura in Asia, nel sud-est asiatico, per trovare questo tempio andato, tempio perduto, molto belli i disegni devo dire, è simpatica la storia. Un canto di Natale a squarciagola, qui ci parlano in un redazionale di questo canto di Natale perché praticamente c'è Natale nel mondo, che è una storia molto particolare di Al Hubbard, pubblicata per la prima volta nell'ottobre del 59, poi pubblicata su Zio Paperino numero 135 del dicembre 2000, in cui Paperino e Qui Quo Qua ricevono delle lettere di Buon Natale dai loro amici sparsi per il mondo, tra cui anche Giuseppe Carioca, il brasiliano che però qui era andato a passare il Natale in Messico, anche Campanellino, c'è anche Pinocchio, c'è anche Pinocchio, quindi questo è Campanellino e poi c'è Pinocchio, e un altro personaggio, il grillo parlante, insomma, molto carine queste storie natalizie vecchie. Paperino il canto di Natale, un'altra storia vecchiotta, però questa dell'81 pubblicata poi anche nell'82, quindi di inizio degli 80, anche qui, insomma, Paperino avrà a che fare con il suo vicino di casa, cercheranno, insomma, di... visto che il titolo è il canto di Natale, l'ho trovato molto simpatico questa storia, ma le storie natalizie della Disney, ragazzi, sono sempre belle, mi ricordo anche da piccolo che guardavo i cartoni animati oltre a leggere i fumetti e mi piacevano sempre. Paperino incontra i sette nani, ovvero Seven Dwarfs, qui c'è la storia originaria, come ben sapete sulla Marco Topolino ci sono anche storie in lingua originale, e quindi qua abbiamo una storia pubblicata per la prima volta addirittura sul Walt Disney Comics and Stories numero 43 dell'aprile 1944, in lingua originale si vede dai disegni che è una storia degli anni 40, il primo incontro di Paperino con i sette nani e poi alla fine c'è una storia dedicata proprio ai sette nani, è l'eroica antivigilia, una storia molto lunga, ma molto carina devo dire, perché di solito quando pensiamo ai fumetti della Disney pensiamo a Paperino, Topolino, quindi al mondo dei paperi e dei topi, ma ci sono anche sette nani, questa storia mi ha sorpreso perché è stata sicuramente carina, ma la storia migliore, se devo scegliere almeno le due storie migliori sono la prima, Capodanno e la torta papera, e anche Paperina invischiata nel vischio, sicuramente le storie migliori, si conclude questo numero 5 della Manacco Topolino con questa storia come detto dei sette nani, alle prese anche con Biancaneve, molto carina, c'è il prossimo numero della Manacco Topolino che uscirà il 28 febbraio, il numero 6, al Manacco Topolino numero 6, quindi sarà il primo del 2022, questo è l'ultimo del 2021, poi si conclude anche con una vignetta come al solito vediamo nella Manacco Topolino. Ragazzi che dirvi su questo numero 5 della Manacco Topolino, un numero che mi ha soddisfatto, mi aspettavo delle storie natalizie, la Manacco Topolino sappiamo la storia che ha all'interno dei fumetti Disney, posso dire di essere contento, io andrò avanti con la lettura della Manacco Topolino anche perché è un bimestrale, io ve lo dico farò dettagli, continuerò a comprare Topolino settimanale, sicuramente la Manacco Topolino bimestrale, per gli altri credo che saranno acquisti occasionali, che siano mensili, bimestrali o trimestrali, ma sicuramente questa lettura mi è piaciuta molto, fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo Manacco Topolino numero 5, qual è stata la storia migliore secondo voi, come trovate anche i disegni, i colori e le storie proprio in generale, a me questo formato piace moltissimo, anche perché si può piegare come detto, la Manacco Topolino è una bella pubblicazione ragazzi, sono contento che ho sentito che vende il giusto, non sta vendendo tantissimo, però essendo un bimestrale io credo che vada bene così, fosse stato un mensile sarei stato un po' più preoccupato per le vendite, ma siccome un bimestrale alla fine 4,90 euro per un bimestrale così di 130 pagine si possono spendere, secondo me sono soldi ben spesi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date sempre e continuamente, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao!